vedete quanti libri alle mie spalle sono tanti sono antichi e in un certo senso si potrebbe dire che le fonti buddhiste le fonti che ci parlano di Siddhartha Gautama Shakyamuni detto il Buddha cioè l'illuminato hanno un'estensione che più o meno pari a tutta questa parete ora per non perderci in questo mare magnum noi dobbiamo porre una domanda una domanda essenziale che va a cogliere l'aspetto diciamo così qualificante della personalità dell'insegnamento del Buddha e la domanda è che cosa è stato il Buddha la mia risposta dopo aver studiato diverse fonti e aver avuto a che fare e per per tanti anni con la sapienza buddista e ancora adesso continuo naturalmente questo mio confronto questo mio viaggio all'interno di queste fonti e non solo queste fonti ma anche incontrando persone che hanno fatto professione di vita monastica all'interno del buddismo bene la mia risposta è la seguente il Buddha è stato un medico un medico in un certo senso tutto il suo insegnamento è facilmente riassumibile in una diagnosi e in una terapia che consistono in questo la diagnosi è sofferenza e la terapia è cessazione della sofferenza il Buddha non vuole essere altro non vuole proporre altro se non una comprensione del fatto che tu sei malato tu in quanto vivente in quanto essere vivente sei in una condizione di disagio che si può definire malattia e che consiste nella sofferenza e secondo passo tu in questa condizione di disagio e di sofferenza puoi ottenere la guarigione non solo la cura non solo la cura ma una cura che ha come esito che può avere come esito la guarigione e la guarigione consiste la terapia consiste nella cessazione della sofferenza puoi non soffrire più questo è il nucleo dell'insegnamento buddista e noi lo possiamo vedere attraverso un aneddoto la cosiddetta parabola della freccia avvelenata perché vedete un discepolo che si chiamava malunkia putta discepolo del buddha quindi discepolo delle prime origini buddiste un giorno si rese conto che su due cose importantissime il buddha non aveva detto niente e cioè la creazione del mondo l'origine del mondo e seconda cosa la partecipazione di noi esseri umani alla vita eterna il mondo è stato creato o c'è sempre stato secondo noi quando arriveremo a morire quando il nostro corpo incontrerà la morte e la dissoluzione noi vivremo ancora in un'altra dimensione parteciperemo alla vita eterna o anche per noi sarà la fine ecco questo discepolo di nome malunkia putta si rese conto che il buddha non aveva detto nulla di queste cose e allora si recò dal buddha anche un po come dire non dico arrabbiato ma in un certo senso molto determinato a voler avere spiegazioni al riguardo chiedendo precisamente spiegazioni e nella come risposta malunkia putta ottenne la parabola della freccia avvelenata il buddha cioè disse così che un uomo era stato colpito da una freccia cosparsa di un veleno un veleno molto potente e gli amici i parenti si affrettarono a chiamare un chirurgo per estrargli la freccia ma l'uomo disse no io non mi farò togliere la freccia prima di sapere chi mi ha colpito e poi non solo l'identità ma voleva sapere più precisamente se era un guerriero un sacerdote un mercante voleva conoscere l'aspetto fisico se era alto basso di media statura nero bruno giallo voleva ancora conoscere l'arco che aveva usato quale tipo particolare di freccia e il buddha concluse dicendo certamente quest'uomo non riuscirebbe a sapere tutto ciò prima di aver finito il suo tempo parabola poi applicazione al caso concreto in modo del tutto analogo o malunchia putta se qualcuno dicesse non condurrò vita religiosa presso il beato fino a quando egli non mi spiegherà se il mondo è eterno non è o non è eterno se la vita il corpo sono la stessa cosa due cose diverso ecco il beato non avrebbe ancora terminato di spiegare tutto ciò che quest'uomo avrebbe già finito il suo tempo e poi la questione decisiva o malunchia putta sia che viga la teoria il mondo è eterno o non è eterno una cosa è sicura e qual è questa cosa sicura che il buddha dice al suo discepolo qual è la cosa sicura ecco eccola qua che vi sono nascita vecchiaia morte pene lamenti dolore disperazione mancanza di serenità e di queste cose io già in questa vita insegno a realizzare la fine ecco questo è un approccio come vedete molto fisico empirico e per nulla metafisico si tratta di guardare la realtà o meglio ancora si tratta di guardare la realtà della vita la realtà dei viventi di ogni essere vivente e rendersi conto esattamente che quello che esiste è nascita vecchiaia morte pene lamenti dolore disperazione mancanza di serenità questo è l'approccio molto empirico molto realistico qualcuno potrà dire pessimista e lo vedremo dopo se è pessimista o non è pessimista o semplicemente realista e dopo lo vedremo ma quello che è importante adesso è continuare a livello introduttivo la lettura di questo sutra che riguarda Malunkia Putta con le ultime parole che il Buddha gli rivolge e perché o Malunkia Putta io non ho spiegato tutto questo cioè perché dice il Buddha io non mi sono occupato di definire come fanno le altre religioni se il mondo è stato creato da Dio e come è stato creato in quanti giorni e se noi abbiamo un'anima o non abbiamo un'anima e se con quest'anima partecipiamo o no alla vita eterna come mai non mi sono preoccupato di queste cose così essenziali per le altre religioni quindi il Buddha pone a se stesso una domanda decisiva direi e la risposta è eccola perché questo non serve alla salute non è salutare questo non appartiene ai fondamenti della vita religiosa non conduce al sereno disincanto al distacco, alla cessazione, alla pace alla conoscenza, al risveglio al nirvana per tale motivo non ho spiegato tutto ciò perché quello che conta quello che conta è un risultato pratico per il Buddha niente teorie niente dogmi niente dottrine niente catechismi niente rivelazioni niente fatti storici non si tratta di pensare di guardare la storia non si tratta di leggere libri sacri per quanto il buddismo abbia tantissimi libri non c'è nessun libro sacro non si tratta di andare a guardare cose che sono fuori di noi non è questa la via del Buddha si tratta di guardare dentro di noi e come guardo dentro di me? guardando anche dentro gli altri perché io conosco me stesso anche conoscendo gli altri conosco la mia vita conoscendo la vita degli altri perché tutti quanti siamo strettamente legati interconnessi gli uni agli altri e i dolori degli altri sono anche i miei così come le gioie degli altri sono anche le mie quindi il fine è una conoscenza una conoscenza di tipo pratico esistenziale per giungere alla pace che cosa invece ho spiegato continua che cosa invece ho spiegato ho spiegato questa è la sofferenza questa è l'origine della sofferenza questa è la cessazione della sofferenza questa è la via che porta la cessazione della sofferenza qui abbiamo la prefigurazione poi le vedremo molto meglio certo ma già fin d'ora qui abbiamo la prefigurazione di quelle che il buddismo chiama le quattro nobili verità universalità della sofferenza causa della sofferenza possibilità della cessazione della sofferenza e via sentiero mediante il quale è possibile giungere a superare la sofferenza ecco qui c'è tutto l'insegnamento quasi tutto poi vedremo ci sono anche altre cose ma insomma il nucleo pulsante è qui e perché ho spiegato tutto ciò continua il buddha ma perché salutare cioè ti dà salute salute da intendersi nel duplice senso del termine latino salus che è sia salute sia salvezza perché salutare appartiene ai fondamenti della vita religiosa conduce al sereno disincanto al distacco alla cessazione alla pace alla conoscenza al risveglio al nirvana per questo motivo ho spiegato tutto ciò e il discepolo Malumkiaputta fu contento di queste spiegazioni capì che non era importante avere le idee chiare sull'origine del mondo e sul nostro destino ultraterreno anche perché appunto avere le idee chiare al riguardo non è possibile quello che è possibile è avere le idee chiare sui nostri reali problemi e i nostri reali problemi consistono esattamente nella in quelle realtà che il buddha con una parola sola chiama sofferenza Dukkha per usare il termine sanscrito è pessimismo tutto questo? adesso lo vedremo di sicuro già fin d'ora penso che una cosa appaia chiaro a tutti voi che mi ascoltate cioè che è un pessimismo forse di prima battuta che poi si trasforma in un grande ottimismo perché il buddha dice che è possibile qui e ora vincere la sofferenza la terza nobile verità cioè la possibilità della cessazione della sofferenza secondo me è il cuore pulsante del buddismo non è la prima nobile verità l'universalità della sofferenza in questo il buddha non è stato granché originale tanti prima di lui hanno insistito sull'universalità della sofferenza pensate alle epope mesopotamiche a Gilgamesh pensate al dialogo di un suicida con la propria anima o il dialogo di un disperato con la propria anima della letteratura sapienziale egizia pensate a Giobbe pensate a Coelet a molti altri molti salmi della Bibbia ebraica pensate a Omero e alla descrizione degli esseri umani come foglie è la stessa cosa archiloco è la stessa cosa molti i tragici greci insomma veramente noi potremmo veramente convocare tutti questi libri aprirli e trovare e trovare la dichiarazione che la sofferenza è parte costitutiva della vita non solo umana ma della vita di ogni vivente e però guarda più si sale nella consapevolezza nella coscienza quindi nella qualità della vita umana più aumenta la sofferenza quindi il Buddha non è stato originale su questo un po' di più lo è stato sulla seconda nobile verità quando dice cioè la causa della sofferenza che poi vedremo ma già adesso posso anticipare questa causa della sofferenza è da lui indicato mediante il termine Trzna che significa Brahma cioè la causa della sofferenza in altri termini non è esterna a te è dentro di te non sono gli altri noi siamo portati in prima battuta perché soffro è perché gli altri la colpa i familiari il datore di lavoro i politici gli altri la colpa delle mie la causa della mia sofferenza è fuori di me ecco il Buddha dice con la seconda nobile verità che la causa del tuo malessere del tuo disagio è dentro di te il che è una buona notizia perché se è fuori di me non posso fare niente se è dentro di me posso lavorare e quindi su questa base su questa analisi hai la terza nobile verità cioè la possibilità effettiva del superamento poi vedremo ma se se io se io sono la causa del mio disagio allora la causa del superamento del mio disagio deve venire fuori di me è qualcosa che è qualcosa che viene da fuori è la grazia è un evento salvifico è Dio e il Buddha risponde no è sempre dentro di te che si gioca la partita così come tu sei la causa della tua sofferenza allo stesso modo terza nobile verità tu sei la causa puoi essere la causa del superamento della sofferenza della cessazione della sofferenza quindi dentro di te c'è il problema e dentro di te c'è la soluzione del problema vedremo l'importanza notevolissima di questa di questa dimensione che Thich Nhat Hanh chiama natura del Buddha non solo Thich Nhat Hanh tutti i maestri buddhisti chiamano natura del Buddha tu ti puoi salvare perché dentro di te uomo donna dentro di te c'è una dimensione particolare che si chiama natura del Buddha così come dentro di te c'è la causa dei mali allo stesso modo dentro di te c'è la la causa del superamento dei mali buddhata natura del Buddha quindi alchimia laboratorio alchemico siamo chiamati a essere un laboratorio e come? come faccio a spegnere la Brahma e ad attivare la natura del Buddha come faccio quarta nobile verità che viene detta anche nobile o tuplice sentiero cioè attraverso un sentiero di otto passi che poi vedremo un sentiero di otto passi attraverso questo sentiero di otto passi io posso spegnere la Brahma e attivare la natura del Buddha otto passi che sono retta visione retta intenzione e questi due elementi hanno a che fare con la dimensione conoscitiva quindi i primi due passi del nobile o tuplice sentiero l'intenzione la visione e l'intenzione sono di natura conoscitiva poi arriva la dimensione etica degli altri degli altri passi che sono il terzo il quarto il quinto il terzo ha a che fare con la retta parola azione e sostentamento parola retta parola retta azione e retto sostentamento questa è la dimensione etica del nobile o tuplice sentiero e infine gli altri tre passi del nobile o tuplice sentiero che hanno a che fare con la dimensione contemplativa e hai retto sforzo retta presenza mentale e retta concentrazione e queste hanno a che fare precisamente con la dimensione di trasformazione della mente come vedremo meglio dopo in ogni caso il nucleo al di là dei dettagli che poi andremo ad analizzare meglio più avanti quello che è importante adesso è capire il nucleo profondo dell'insegnamento del Buddha medico di fronte a te che soffri il Buddha ti dice ah che come te tutto il mondo soffre e quando tu capisci questa cosa che non sei solo a soffrire ma che sei all'interno di una rete dove altri insieme a te e con te e anche a causa tua soffrono quando capisci questo sei già nella condizione per in un certo senso per superare questa dimensione capisci che il tuo problema che è la sofferenza non è solamente tuo poi seconda cosa capisci che la vera causa è dentro di te capisci che la vera possibilità di superamento è dentro di te e capisci come devi fare attraverso un pensiero un percorso nobile o tuplice sentiero fatto di otto passi che otto passi che hanno a che fare con tre dimensioni una dimensione di tipo conoscitiva una dimensione di tipo etica e una dimensione di tipo contemplativa questo questo questa delineazione delle quattro nobili verità e contiene il cuore l'ho già detto il cuore dell'insegnamento buddista l'insegnamento del Buddha prese origine dopo l'illuminazione che il Buddha ottenne sotto il famoso ficus cioè un grande albero che si trovava a Bodhgaya e chi di voi adesso va nel nord dell'India in questa località chiamata appunto Bodhgaya può vedere un grandissimo albero attorno al quale i buddhisti si raccolgono qualcuno girando attorno qualcuno fermandosi in meditazione e si dice che questo albero che attualmente si può vedere a Bodhgaya abbia preso origine non sia quello storico del Buddha ma abbia preso origine da un come si chiama un pezzo dell'albero non mi viene il termine un bacello forse ecco abbia preso origine da un frammento dell'albero originario che poi a sua volta ha dato origine a questo albero che voi potete trovare ma in ogni caso l'illuminazione avvenne a Bodhgaya dopo l'illuminazione ottenuta a Bodhgaya il Buddha si recò in una località chiamata Sarnat poco distante e li tenne il primo discorso il suo primo discorso è in un certo senso il discorso più importante di tutti i sutra buddhisti ed è intitolato il discorso della messa in moto della ruota del Dharma e adesso noi dobbiamo capire che cos'è questo Dharma e che cos'è questa ruota vedete Dharma è un concetto centralissimo del buddismo ma anche dell'induismo ogni fedele buddista ogni giorno tre volte al giorno ripete la triplice presa di rifugio dicendo prendo rifugio nel Buddha nel Dharma e nel Sangha e sono i tre gioielli il Buddha il Dharma e il Sangha il Buddha è il maestro il Dharma adesso vedremo che cos'è e il Sangha è la comunità ma di questi tre gioielli in cui ogni buddista è chiamato ogni giorno a prendere rifugio è bellissima l'espressione prendere rifugio è bellissima mi trovo in un mondo insicuro mi trovo in un mondo esteriore che è insicuro mi trovo anche in un mondo interiore insicuro ma ho la possibilità di avere un rifugio ho la possibilità di di non essere in balia dei nemici esteriori ed interiori c'è un posto dove posso stare sicuro dove posso stare tranquillo sereno dove posso prendere rifugio appunto un rifugio come montagna come quando vai in montagna e sei e sei lungo un sentiero però sai vedi l'indicazione il rifugio c'è un rifugio e di che cosa hai fatto questo rifugio prendo rifugio nel Buddha nel Dharma e nel Sangha il Buddha è colui che testimonia è il maestro è colui che insegna e che cosa insegna insegna il Dharma e che cosa scaturisce dal Dharma dal Dharma scaturisce il Sangha cioè la comunità di coloro che hanno preso rifugio nel Buddha e che hanno accolto il Dharma quindi in un certo senso il Buddha è colui che annuncia annuncia il Dharma e ciò che scaturisce dal Dharma è il Sangha capite che il Dharma che è in mezzo non a caso è il concetto centrale appunto perché il Buddha è finalizzato all'annuncio del Dharma e il Sangha è ciò che scaturisce dall'annuncio del Dharma quindi noi dobbiamo capire che cos'è questo Dharma Dharma come si capiscono le cose e si capiscono le cose i concetti capendo i termini quando sei di fronte a un concetto il concetto viene veicolato da una parola da un termine e il suono di un termine non è casuale soprattutto quando hai a che fare con concetti così importanti le parole non nascono soprattutto queste parole importantissime centrali che veicolano insegnamenti profondi non nascono a caso quindi andare a indagare l'etimologia la radice di una parola significa capire profondamente il concetto è chiaro ebbene Dharma viene da una radice indoeuropea Durm che significa qualcosa di stabile qualcosa di fermo tant'è che la variante latina è firm durm firm e c'è anche la variante slava drž drž che significa tenere držati tenere è uguale e questa la trovate appunto nel sanscrito durm la trovate nelle lingue slave drž e la trovate in latino nelle lingue che ha a fare con il latino firm noi in italiano per esempio diciamo firma o anche firmamento che cos'è la firma la firma è ciò che rende stabile la tua parola giusto tu hai detto delle cose poi le firmi le rendi stabili la firma è qualcosa che ferma appunto che ferma se si muove si muove questo ti ferma questa parola io firmo quindi noi quando firmamento firmamento quando un tempo si pensava appunto le stelle erano fisse adesso non abbiamo più a che fare con una cosmologia immobile ferma tutto si muove e quindi l'idea del firmamento non si dice più o meglio se ne può anche parlare il firmamento ma è una maniera semplicemente solo poetica ma un tempo si pensava che le stelle fossero a parte i pianeti che erano stelle mobili ma la gran parte erano stelle fisse firmamento appunto quindi Dharma è un punto fermo è un punto fermo che mette ordine nel mondo questo mondo si muove faccio fatica a capire qual è il suo senso non lo so cos'è come faccio a capire bene guarda il senso di questo mondo è il Dharma è la logica è la logica cosmica profonda che innerva le cose Dharma significa anche legge come faccio a sapere cos'è giusto cos'è sbagliato che cosa succede come mi devo comportare c'è una legge infatti Dharma significa ordine cosmico significa anche legge e poi il vero il falso come faccio a sapere le idee Dharma significa anche dottrina quindi Dharma è il punto fermo a livello di cosmologia a livello di conoscenza e a livello giuridico è ordine cosmico è dottrina ed è legge questo è il Dharma voi direte ma tutto questo non è in contraddizione con se Dharma è punto fermo in che senso il primo discorso del Buddha si chiama il discorso della messa in moto della ruota del Dharma e la ruota gira in che senso il Dharma ha a che fare con qualcosa che stabilizza e non è in palese contraddizione sì è così c'è questa contraddizione tra il titolo del primo discorso discorso della messa in moto della ruota del Dharma e il concetto stesso di Dharma ma noi possiamo sciogliere questa contraddizione se capiamo che per il Buddha e non solo per il Buddha per il Buddha ma diciamo anche per l'induismo ma stiamo pure sul buddismo insomma per il Buddha oltre alla ruota del Dharma c'è anche un'altra ruota cioè la ruota dell'esistenza c'è la ruota dell'esistenza una ruota che continuamente gira tu cammini 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 e ti ritrovi quasi sempre poi allo stesso posto e tutti tutti si muovono tutto il mondo si muove ma alla fine tutto torna dov'era è l'eterno ritorno di cui parlava di cui parlava l'inice questa è la ruota dell'esistenza sembra che tutto cambi ma alla fine poi le cose sono sempre quelle la voracità l'ingiustizia i più forti che schiacciano i più deboli il potere il piacere la vita la morte animali che mangiano altri animali nascite morti ci sono tanti fenomeni epifenomeni come dire esteriori appunto epifenomeni ma il fenomeno di fondo è sempre quello è la ruota dell'esistenza l'eterno ritorno dell'uguale ora l'annuncio del Buddha adesso vediamo se riuscirò con le mani a essere plastico a farvelo l'annuncio del Buddha dice questo c'è una prima ruota la ruota dell'esistenza che gira e che presenta un fenomeno che si dice in tanti epifenomeni ma che è sostanzialmente sempre quella ebbene all'interno di questa ruota dell'esistenza il Buddha attraverso il primo discorso tenuto a Sarnat dopo aver ricevuto l'illuminazione a Bodh Gaya all'interno di questa ruota dell'esistenza ha inserito un'altra ruota che è la ruota che è la messa in moto della ruota del Dharma e tu hai una ruota dell'esistenza che gira di movimento circolare e all'interno di questo c'è un altro movimento che non è circolare circolare superficiale che si ferma così ma un movimento diverso ascensionale è un movimento che ti fa uscire dall'eterno ritorno dell'uguale io non sono capace con le mani non ci riesco bisognerebbe fare questa ruota che continua a girare e all'interno di questa una una spirale che ti tira fuori che ti ti porta fuori ti strappa da questa ruota dell'esistenza che poi è anche una prigione dove i viventi sono costretti per vivere a nutrirsi di altri viventi dove i viventi sono costretti a per vivere a generare morte perché la vita si nutre di vita sia fisica sia psichica perché anche spesso noi abbiamo quello voi capite subito immediatamente si capisce subito il senso dice mangio anche semplicemente un frutto una pianta non parliamo poi di un animale di un pesce di una carne di maiale quello che volete voi mangio e quindi la mia vita si tiene in vita grazie al fatto che altri viventi sono morti vegetali o animali che siano e questo lo si capisce ma c'è anche un nutrimento psichico che noi facciamo a spese degli altri quante volte noi come dire abbiamo un senso di vittoria grazie all'umiliazione di altri la nostra vittoria il nostro trionfo come quello degli imperatori dell'antica Roma viene a spese di altri ho vinto sono primo ma se il mio essere primo il mio primato genera necessariamente la sconfitta l'ultimato di altri il primato l'ultimato lo so che non si dice ultimato ma era per giocare un po' con le parole ecco da questa ruota dell'esistenza che genera sofferenza il Buddha attraverso la messa in moto della ruota del Dharma ti tira fuori ti dà la possibilità di uscire quindi è un messaggio che sì in prima battuta ha un che di pessimista perché vede il mondo in preda precisamente alla sofferenza ma che nella sua essenza profonda è gioioso perché ti dice che puoi uscire ora noi abbiamo già visto le quattro nobili verità ho già ho già enunciato il nobile o tuplice sentiero e ho parlato della teoria del Dharma di che cos'è il Dharma del concetto di Dharma quindi quattro nobili verità universalità della sofferenza causa della sofferenza possibilità di cessazione della sofferenza e via concreta mediante cui la sofferenza si può superare che è il nobile o tuplice sentiero nobile o tuplice sentiero che abbiamo visto essere composto di tre di otto passi naturalmente i quali si classificano secondo tre categorie centrali ci sono passi di tipo conoscitivo passi di tipo etico e passi di tipo contemplativo e quindi retta visione retta intenzione retta parola retta azione retto sforzo no scusate retto sostentamento poi retto sforzo retta concentrazione retta contemplazione poi abbiamo visto cos'è il Dharma e il Dharma è precisamente l'insieme di queste cose è l'insieme di queste cose il fatto che in un mondo dove tutto si muove dove non c'è niente di stabile dove non c'è niente di pacificante dove non c'è niente di che è veramente profondamente casa tua dove non c'è nessun rifugio in questo mondo è possibile prendere rifugio e puoi prendere rifugio esattamente nel Dharma e adesso l'ultimo concetto decisivo della dottrina del Buddha è la teoria del Karma e se voi avete se io sono riuscito a spiegare le quattro nobili verità lo tuplice sentiero il Dharma e adesso il Karma voi avete il Buddismo questa è filosoficamente parlando la filosofia del Buddha che cos'è la teoria del Karma Karma vuol dire azione tra l'altro la radice del termine Karma ha a che fare ha a che fare con crescita sentite le pare creare la stessa radice creare crescita anche cereali viene da qua la dea cerere da cui cereali ecco la radice è questo ciò che cresce cresce e si cresce in base a un'azione ma che cosa dice questa teoria dell'azione io non lo so voi che adesso sentite queste mie parole che giudizio darete che emozione si svilupperà dentro di voi alla luce della teoria del Karma sentendo la teoria del Karma a me piace moltissimo perché sostanzialmente dice che nulla va perduto è la teoria dell'azione ogni azione ogni azione viene registrata c'è una specie di grande memoria del mondo nella quale nulla si perde tutto viene registrato e quindi qualunque cosa tu faccia qualunque pensiero tu pensi tu possa pensare viene registrato e uso pure questa immagine ti fa guadagnare o perdere punti a seconda della qualità etica della tua azione o del tuo pensiero secondo la teoria induista la teoria del Karma ha soprattutto a che fare con l'azione e soprattutto a che fare con l'azione rituale la grande rivoluzione del Buddha è consistita nel far passare far transitare la teoria del Karma dalla azione alla intenzione cioè ciò che ti fa guadagnare o perdere punti prima ancora che le tue azioni esteriore è la tua intenzione interiore ancora una volta tutto si gioca dentro di te dentro di te c'è la causa della sofferenza dentro di te c'è la natura del Buddha grazie al quale puoi vincere questa cosa questo questo disagio questa questa brama e sempre dentro di te c'è l'azione non esteriore ma interiore che si chiama intenzione grazie al quale si mette in atto la teoria del Karma abbiamo che fare in altri termini con una visione etica e logica dell'universo quindi chi dice chi pensa che il buddismo sia pessimista non dice il vero secondo me perché la teoria del Karma è una teoria estremamente ottimista del mondo non siamo in balia del caso non siamo in balia del nulla esiste una legge etica profonda che è il Dharma e sulla base del Dharma esiste un meccanismo diciamo così un meccanismo che è la teoria del Karma il Dharma costituisce lo sfondo e la teoria del Karma costituisce il meccanismo mediante il quale tu acquisti o guadagni rispetto a questo sfondo ha scritto uno dei più grandi studiosi contemporanei del pensiero del Buddha queste sei righe che adesso vi leggo lo studioso si chiama Richard Gombrich il libro è il pensiero del Buddha edizione ad Elfi ecco in questo libro ci sono queste parole che io riporto le condivido completamente dal mio piccolo punto di vista e dicono così a mio parere la chiave del pensiero del Buddha è la dottrina del Karma e la nozione che siamo tutti responsabili di noi stessi un concetto che ha un importante aspetto metafisico ma che è soprattutto un principio etico l'intero universo è eticizzato secondo l'insegnamento del Buddha tutti gli esseri senzienti dell'intero universo sono moralmente responsabili e possono rinascere in una condizione superiore o inferiore in virtù del bene e del male che hanno compiuto quindi noi abbiamo a che fare con un messaggio quello del Buddha che è estremamente realistico perché fotografa lo stato di sofferenza parla del mondo come di un ammasso di dolore voi pensate agli ammassi delle galassie oppure un'altra parola che usa è un aggregato di dolore è bellissima bellissima diciamo tocca tocca in profondità perché aggregato voi potete pensare a qualcosa che non sia un aggregato no tutto quello che voi potete vedere o pensare è il frutto di una della logica di aggregazione anche l'aria che in questo momento io respiro in questa biblioteca e poi l'aria che respirerete voi quando tra un po' qualcuno di voi guarderà questa conferenza l'aria quest'aria che ci tiene in vita è un aggregato un'aggregazione di gas ma a loro volta l'ossigeno e l'azoto che formano l'aria sono a loro volta aggregati tutto è un'aggregazione ebbene il Buddha guarda questo insieme questo ammasso che è il mondo questo insieme di aggregati e lo definisce in base a che cosa al dolore un aggregato di dolore però la sua grande azione consiste esattamente nel capire la causa di questo dolore e nel dichiarare la possibilità di venirne fuori mediante quello che ho quello che ho detto la prima nobile verità adesso andrò ad analizzare un po' più analiticamente le quattro nobili verità perché il buddismo questo è sono appunto le quattro nobili verità queste sono le parole del discorso della messa in moto della ruota del dharma il primo discorso del Buddha le parole che descrivono la prima nobile verità questa è la nobile verità della sofferenza la nascita è sofferenza la vecchiaia è sofferenza la malattia è sofferenza la morte è sofferenza l'unione con ciò che non è caro è sofferenza la separazione da ciò che è caro è sofferenza in non ottenere ciò che si desidera è sofferenza ecco vedete io non lo so se voi siete d'accordo o no con questa visione chi è d'accordo con questa visione a mio avviso tiene uno sguardo particolare sul mondo e su di sé cioè si mette davanti allo specchio chi accoglie questa questa visione guarda il proprio volto e dice io chi sono e la risposta dice ma io sono sono uno che soffre sono uno che è stato colpito da una freccia proprio come come il protagonista della parabola della freccia avvelenata sì anch'io anch'io sono un ferito e chi è lui anche lui è un ferito e lei chi è lei anche lei è ferita e quello di sotto chi è quello di sotto e anche lui è un ferito e quello di fronte e tutti gli altri ecco accogliere questa la prima nobile verità significa ma accoglierla in profondità significa sviluppare secondo me una profonda cognizione della della condizione psichica di ciascuno di noi e se accogli questa cognizione della condizione psichica ottieni un senso di solidarietà con tutto ciò che vive ma un senso di solidarietà vorrei dire benevola perché capendo questa cosa capisci che anche il male il la stupidità l'ignoranza le male parole tante persone attorno a te tutto questo proviene dal fatto che tutti soffrono che tutti stanno combattendo una dura battaglia che tutti hanno a che fare con quella freccia anzi poi il Buddha tra l'altro dice che qualcuno oltre ad avere una freccia che è data dalla condizione fisica ne può avere un'altra che è data ad avere tutta una serie di idee sbagliate per esempio quello di pensare che questa sofferenza sia colpa tua e quindi complessi di colpa e quindi io soffro certo soffro ma perché soffro è perché sono colpevole e invece no qui attenzione alla distinzione decisiva tra colpa e causa non c'è nessun colpevole non c'è nessun peccato originale non c'è nessuna colpa da scontare non c'è nessuna espiazione c'è una condizione che è data così il Buddha non lo sa come mai si soffre sa che si soffre e sa che la maniera migliore per non soffrire è esattamente quella di capire anzitutto che stiamo soffrendo che non siamo colpevoli siamo sofferenti è un'altra cosa è un'altra cosa uno dei brani più decisivi al riguardo è quello del discorso del fuoco il discorso del fuoco sentite queste sei queste sei righe lui si rivolge ai suoi discepoli li chiama monaci potete anche pensare che dice uomini che dice fratelli sorelle va bene ma insomma o monaci tutto brucia e che cosa brucia monaci la vista brucia il contatto visivo brucia e qualsiasi sensazione sorga in dipendenza in dipendenza dal contatto dell'occhio con i suoi oggetti sia essa percepita come piacevole spiacevole o neutra anche questo brucia mediante cosa brucia brucia mediante il fuoco dell'attaccamento il fuoco dell'avversione il fuoco della confusione brucia vi dico a causa della nascita della vecchiezza e della morte della pena del lamento del disagio dell'angoscia o dello scoramento tutto brucia un grande incendio il mondo la vita come un grande incendio insomma noi però dobbiamo affrontare anche la questione troppo pessimismo il mondo è così il mondo è solo sofferenza ecco vedete se qualcuno di voi pensa che questa prospettiva sia troppo pessimista perché dice che c'è non solo sofferenza ma che c'è solo sofferenza che se qualcuno pensa che insomma è esagerata questa visione deve sapere che si ritrova d'accordo con uno dei più grandi maestri buddhisti nel nostro tempo che è il monaco vietnamita Thich Nhat Hanh uno dei maestri spirituali che io amo di più grande maestro spirituale grande poeta il quale in un suo libro dedicato precisamente alle quattro nobili verità scrive così il buddha vedeva che la vecchiaia racchiudeva sofferenza ma io sono vecchio e felice ho scoperto che la tarda età è qualcosa di davvero delizioso la malattia è sofferenza certo ma la malattia può rafforzare il tuo sistema immunitario poi nemmeno la morte è esattamente solo sofferenza fa parte anch'essa della vita non è il nemico sappiamo che molte cellule del nostro corpo stanno morendo in ogni istante così che possano nascerne di nuove quindi la morte avviene di continuo è qualcosa di naturale inoltre se osserviamo a fondo vediamo che non stiamo davvero morendo perché continueremo a vivere con forme diverse Thich Nhat Hanh interpreta a mio avviso molto giustamente la prima nobile verità dicendo che non tutto è sofferenza cioè riconducendo la constatazione della sofferenza a una visione processuale che è la vera visione del Buddha una visione processuale delle cose proprio perché c'è la sofferenza c'è anche la possibilità della gioia e proprio perché c'è la possibilità della gioia c'è la possibilità della sofferenza se tu non avessi sofferenza non potresti avere la cessazione della sofferenza e la gioia consiste nella cessazione della sofferenza e se tu non avessi gioia tu non potresti avere la cessazione della gioia e la sofferenza consiste nella cessazione della gioia in altri termini voi capite che qui ci troviamo di fronte a una visione dell'interconnessione delle cose è un po quello che diceva anche a suo modo fabrizio de andrè quando cantava in via del campo dai diamanti non nasce niente dall'etame nascono i fiori il buddha lo dice e tic natan lo ripete se voi avete il loto che è il fiore più bello dell'oriente non potete non avere anche il fango senza il fango non c'è loto se vuoi avere la bellezza del fiore di loto tu devi avere il fango quindi la prima nobile verità non è una una verità che ultimamente si chiude in maniera monistica sulla sofferenza ma è qualcosa che ti apre a una visione processuale dell'essere all'interconnessione di tutte le cose cioè il fatto che noi dobbiamo pensare che ogni realtà ogni fenomeno non è un punto ma è un nodo un nodo come fa tic natan quando prende in mano un foglio bianco e dice lo vedi questo foglio bianco in questo foglio bianco c'è una nuvola e uno dice questo è pazzo e poi lui ti fa capire che no questo foglio bianco è fatto di carta e la carta e la carta viene dal legno e il legno viene dall'albero e l'albero cresce nel terreno grazie all'acqua e l'acqua proviene dalle nuvole per cui se noi non avessimo la nuvola non avremmo questo foglio e quello che vale per la nuvola vale per qualunque altro oggetto voi potete tenere in mano o pensare o esperire voi non toccate mai un oggetto nella sua sostanza voi toccate un oggetto nella serie di relazioni che lo rendono possibile perché ogni fenomeno che esiste in quanto fenomeno non è un punto ma è un nodo di relazioni questo è possibile tramite quello è quello che vale per il foglio di carta vale per per una mela per un'arancia per le scarpe per un automobile voi pensate tutto ciò che che come dire che compone un automobile e l'origine di questi materiali colui coloro che li hanno assemblati coloro che li hanno fatti e capite che in un automobile c'è c'è il mondo intero che si raduna e che rende possibile quell'oggetto questa è la visione che in sanscrito si chiama pratitya samutpada cioè la genesi interdipendente non c'è una creazione c'è una genesi interdipendente la creazione l'idea di creazione delle religioni monoteiste e la seguente qui è il nulla per modo di dire qui è il nulla non si potrebbe dire ma insomma il nulla sopra c'è un essere indipendente creatore signore che dice sia fatta la luce sia fatto il mondo sia fatto l'essere e qui dove c'è il nulla c'è l'essere la luce il mondo e così via genesi la genesi interdipendente non conosce questa divisione del mondo dell'essere in due sopra e sotto conosce un'unica sfera che si muove che potrebbe essere precisamente la ruota dell'esistenza e questa ruota dell'esistenza è fatta da una logica della genesi interdipendente per cui da qualcosa che muore qualcos'altro nasce e questo che nasce a un certo punto morirà e dalla sua morte nascerà qualcos'altro è la genesi interdipendente la luce si concepisce solamente sulla base delle tenebre se non ci fossero le tenebre non ci sarebbe lo sfondo su cui poter avere la luce così la morte come la vita così il bene come il male così la destra e la sinistra ogni cosa che esiste esiste in un contesto di relazioni naturalmente queste relazioni che si che si vanno facendo sono relazioni di sofferenza perché perché nascere è faticoso anche morire è faticoso e questo è il senso della prima nobile verità la passione tutto brucia e la passione la passione dell'essere passione intesa proprio come la passione di cristo oppure nel senso metaforico la passione del popolo siriano sì noi potremmo dire la passione dell'essere la passione del farsi delle cose del farsi e del disfarsi poi va bene la seconda sulla seconda nobile verità noi per non trascinare troppo se no diventa troppo lungo qui possiamo anche fare saltarla ed è precisamente come la brama il desiderio ma anche qui entra comunque in gioco la dialettica dico semplicemente che la brama il desiderio possono essere visti come qualcosa di estremamente negativo ma al contempo come qualche cosa di positivo per esempio il desiderio che prese il giovane siddhartha di lasciare la regia paterna voi sapete che era figlio del re un signore molto importante del nord dell'india aveva a disposizione le più grandi ricchezze aveva sposato una delle donne più belle aveva già un figlio si si chiamava rahula il figlio aveva i migliori maestri aveva avuto i migliori maestri eccelleva in tutte le arti qual è qual è quel desiderio che lo prese di lasciare la regia paterna di lasciare la giovane bellissima moglie di lasciare il giovane figlio e tutta la sua vita e di andarsene nella foresta da solo a meditare per poter venire a capo della morte della malattia della vecchiaia della sofferenza che aveva visto agitarsi in tutti i viventi per capire questo meccanismo e per smontarlo se possibile offrendo agli esseri umani la possibilità a loro volta di capire e di smontare il meccanismo di sofferenza del quale sono imprigionati e non è forse un desiderio questo che prese siddhartha, gautama, shakiamuni appunto di abbandonare gli agi e di iniziare una ricerca faticosa sui libri, certo, anche sui libri ma anche su di sé nell'ascesi nel digiuno nella pratica costante tutto ciò poteva nascere senza un forte desiderio no e quindi capite che quella dinamica dialettica che riguarda la sofferenza Ducca che è sofferenza ma in quanto sofferenza è anche possibilità di superamento della sofferenza e quindi anche gioia e quindi la vita che è sofferenza proprio quando dici che è sofferenza dici che anche che non è sofferenza dici che anche che è non sofferenza gioia allo stesso modo questa dialettica tocca anche la seconda nobile verità cioè l'origine della sofferenza è tursna, è la brama ma dalla brama, dal desiderio può essere può scaturire anche il contrario della sofferenza che il desiderio di capirla di smontarla esattamente come è avvenuto per siddhartha quindi il desiderio non è negativo a priori a prescindere in se stesso dipende dipende da che cosa desideri dipende da come lo coltivi non è neanche sempre positivo il desiderio può essere cupidigia può essere brama egoismo chiaro che sì ma può essere positivo nella misura in cui il desiderio diventa aspirazione diventa ricerca la terza nobile verità ho già detto che a mio avviso è la è la più squillante è uno squillo di tromba è il cardine su cui si gioca tutto il buddismo tutto l'insegnamento del buddha secondo me si gioca qui le prime due sono fotografie si dà la sofferenza e si dà l'origine una causa della sofferenza fotografie il punto ciò che fa ciò che mette in moto ciò che fa sì che non ci siano solo fotografie della realtà ma ma la possibilità di sottoporre a processo la realtà di trasformarla di cambiarla esattamente la terza nobile verità c'è la possibilità di uscire o di trasformare questo processo la leggo nella traduzione italiana naturalmente i testi antichi per chi vuole leggere queste cose consiglio il meridiano dei meridiani dello spirito meridiano mondadori sono due volumi ma in particolare il primo intitolato precisamente i testi antichi ecco a cura di Gnoli Ragnero Gnoli e poi altri traduttori molto preparati e molto bravi ma il curatore diciamo complessivo è lui Ragnero Gnoli è un libro ormai di vent'anni fa penso sia ancora in commercio è un meridiano mondadori ecco ecco primo importante discorso è appunto il discorso della messa in moto della ruota del Dharma tenuto a Sarnate prima nobile verità seconda nobile verità terza nobile verità adesso vi leggo le tre righe anzi due e mezzo di questo testo che dice così questa è la nobile verità della cessazione della sofferenza la cessazione della sofferenza è l'estinzione il completo svanimento l'abbandono il rifiuto di questa brama la liberazione e il distacco da esso ecco il qual è il fondamento della terza nobile verità cioè sulla base di cosa il Buddha ha potuto dire che è possibile superare la sofferenza sulla base di cosa ha potuto parlare di estinzione completo abbandono rifiuto di questa brama liberazione eccetera sulla base di cosa dice Thich Nhat Hanh la terza nobile verità si basa sulla comprensione del fatto che ognuno di noi ha la natura del Buddha Buddata il seme di un Buddha dentro di sé tutti abbiamo la capacità di essere consapevoli di essere concentrati e di avere una visione profonda voglio rileggerla questa cosa tutti abbiamo la capacità di essere consapevoli di essere concentrati e di avere una visione profonda essere consapevoli essere concentrati avere una visione profonda che cos'è è l'esito del nobile o tuplice sentiero sentiero la consapevolezza la concentrazione l'ottenere una visione profonda una visione profonda di te una visione profonda di lui una visione profonda di lei una visione profonda delle cose tutti abbiamo la possibilità ragazzi è possibile estinguere il fuoco della sofferenza c'è un cammino percorrendo il quale questa cosa si può ottenere questo ho già usato l'immagine dello squillo di tromba rullo di tamburi chiamatelo come volete voi è un annuncio un annuncio evangelion si potrebbe dire nel senso cristiano del termine un evangelio una buona notizia certo noi adesso dovremmo capire che cos'è questa natura del Buddha che cos'è questa natura del Buddha che è dentro di noi Socrate ne parlava in termini di anima psuche ma il buddismo il Buddha nega l'esistenza dell'atman dell'anima dell'anima sostanziale di un'anima che esiste indipendentemente dal dal corpo che proviene da fuori rispetto al corpo e che poi se ne andrà ecco questa cosa il Buddha la nega non parla di Atman parla di An-Atman non anima e tuttavia parla della natura del Buddha e tuttavia parla di un'energia immateriale che esiste dentro di noi e che ci rende capaci di visione profonda di consapevolezza di concentrazione quindi al di là delle etichette anima non anima quello che è importante quello che è importante davvero al di là della maniera con cui noi qualifichiamo i fenomeni è capire l'operazione stessa cioè capire quello che avviene il fenomeno nella sua valenza operativa questo è importante poi lo puoi chiamare anima non anima natura del Buddha psuche lo puoi chiamare nus come gli antichi greci dicevano parlando nus come lo traduci nus lo puoi tradurre intelletto lo puoi tradurre intelligenza lo puoi tradurre spirito spirito creativo quello che è importante è capire che noi abbiamo la possibilità di salire sopra noi stessi e di vederci come dall'alto quello che è importante è capire che noi abbiamo la possibilità di di avere una visione profonda anche di noi è come la coscienza che fa l'esame alla coscienza esame di coscienza chi fa l'esame alla coscienza ma è sempre la coscienza e come la chiami quella forma di coscienza che fa l'esame alla coscienza la coscienza sale sopra la coscienza e la oggettiva e la analizza e dice bene brava hai fatto bene hai fatto male esame di coscienza non è diverso secondo me da questa la facoltà che viene evocata in tutto ciò non è diversa da questa natura del Buddha anzi secondo me è esattamente quella poi lo puoi chiamare in un modo lo puoi chiamare in un altro ma secondo me questa natura del Buddha è ciò che noi in occidente definiamo mediante il concetto di spirito e lo spirito è diverso dall'anima l'anima è l'anima psichica il carattere il temperamento la dimensione conscia meno inconscia le paure le fobie lo spirito è la capacità che noi abbiamo di salire anche sopra di noi se lavoriamo nulla avviene gratis tantomeno in questo in questo ambito e e di capirci e capendoci di sanarci di risanarci e di giungere appunto alla alla natura del Buddha la natura del Buddha dentro di noi rimanda a una visione dell'essere che è ben diversa dal materialismo da quella visione che pensa che l'ultima verità dell'essere sia la materia non c'è nessuna squalifica della materia qui sia chiaro non c'è nessun disprezzo del corpo non c'è nessun c'è semplicemente l'attestazione del fatto che oltre oltre a questa dimensione materiale esiste anche un'altra dimensione che noi possiamo chiamare spirituale di pura mente di pura energia mentale che è la più grande ricchezza perché è attraverso di essa che noi possiamo giungere alla liberazione è attraverso di essa che noi possiamo attivare il nobile o tuplice sentiero anzi il nobile o tuplice sentiero si realizza precisamente come consapevolezza come visione profonda come trasformazione del nus come trasformazione della mente come sapienza e tutto questo rimanda a una visione del mondo in base alla quale non esiste solamente la dimensione appunto materiale ma esiste un'altra dimensione altrettanto importante forse ancora di più alla quale il Buddha faceva riferimento con queste parole che oggi che adesso vi leggo e che sono le seguenti si rivolge sempre ai monaci e dice così esiste o monaci un non nato un non divenuto un non creato un non formato sto parlando dell'eterno esiste o monaci un non nato un non divenuto un non creato un non formato se non esistesse questo non nato non divenuto non creato non formato non si potrebbe conoscere alcuna via di salvezza da ciò che è nato divenuto creato non formato saremmo sempre dico io parentesi saremmo sempre nella ruota dell'eterno ritorno dell'uguale di ciò che è nato creato formato riprendo ma o monaci poiché esiste un non nato un non divenuto un non creato un non formato si può conoscere una via di salvezza da ciò che è nato divenuto creato formato ecco qui siamo in presenza dell'attestazione di un piano dell'essere la cui consistenza ontologica è del tutto diverso dall'essere ordinario ed è ciò che il Buddha chiamava nirvana nirvana la la meta è una condizione di non nascita di non divenire di non creazione di non formazione notate la dimensione negativa il Buddha non dice paradiso lo stesso termine nirvana vuol dire estinzione vuol dire non non scintilla nel senso di scintilla vitale estinzione ma non è l'estinzione nichilistica in nulla è l'estinzione della forma dell'essere che noi possiamo esperire qui e ora dell'unica forma dell'essere che possiamo esperire qui e ora l'essere che è nato divenuto creato formato da questo essere che è nato divenuto creato e formato che costituisce la via dell'esistenza la ruota dell'esistenza scusate non via la ruota dell'esistenza da questo essere noi possiamo uscire grazie a che cosa grazie al fatto che dentro di noi esiste Buddata lo chiamava un seme della natura del Buddha la quale rimanda a una dimensione di non nato non creato non divenuto non formato non puoi pensare al paradiso pensando che poi berrai vino nuovo o che avrai un corpo di carne o addirittura che avrai delle vergini a tua disposizione come maschio musulmano eccetera eccetera tutte queste sono dimensioni create formate divenute sono immagini umane troppo umane maschili troppo maschili che non dicono quello che è la vera sostanza come chiamarla la vera profondità di quel mistero che ci rifacciamo dicendo eternità l'eternità è il non tempo e il non tempo è il non luogo perché tempo e spazi oggi lo sappiamo la fisica ce lo insegna sono la stessa dimensione il tempo lo spazio lo spazio tempo a partire dalla teoria della relatività di Albert Einstein noi sappiamo che il tempo e lo spazio non sono degli assoluti ma sono dei relativi teoria della relatività che nella loro essenza profonda sono unificate lo spazio tempo e quindi quando tu dici superamento del tempo dici anche superamento dello spazio ma capite la profondità di questa di questa visione che ti dice appunto non nato non divenuto non formato non creato è l'unica modalità di pensare la salvezza mediante negazione mediante negazione dico dici che c'è la salvezza ma non dici che cos'è la intuisci l'annunci la intuisci ma non hai la possibilità di dire di dire che cos'è questo a mio avviso è di grande importanza anche per noi occidentali puoi essere o non puoi essere buddista io personalmente non lo sono per quanto abbia grandissimo amore per per questa visione delle cose ma puoi esserlo o non esserlo ma secondo me non c'è oggi insegnamento più profondo più puro per quanto attiene all'eternità alla vita alla cosiddetta vita eterna o alla salvezza che non queste parole del Buddha che vi ho appena che vi ho appena letto è la dimensione essenziale che vale secondo me per tutti quelli che il Vangelo chiama uomini di buona volontà a prescindere dal fatto che tu sia credente o non credente e facendo consistere la cosa solamente nella tua volontà di essere una persona fedele alla tua natura umana ecco la cosa veramente decisiva è questo nobile o tuplice sentiero secondo me non c'è oggi coscienza che non possa e non debba risuonare positivamente di fronte al nobile o tuplice sentiero retta visione andiamo pure in ordine la prima retta visione cosa si tratta di fare di disporre lo sguardo in modo retto retta visione vedere le cose non in maniera uncinata non pesandole o soppesandole per calcolare proprio il loro interesse ma guardandole per quello che sono le cose le persone giungere ad avere uno sguardo retto giusto equo che si posa sulle cose e sulle persone per quello che sono retta visione retta intenzione che sostanzialmente sono i tuoi pensieri retto pensiero e ancora una volta pensare le cose per quello che sono e non in funzione uncinata distorta interessata concupiscente retto retta parola rettificare i termini dice confucio retta parola avere una parola che sia tale da far coincidere il suono nomen alla res che tu vai a a a designare e si dici pane 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 e vino al vino e non dici invece pane intendendo chissà che altro e vino intendendo che no ecco anche il proverbio ci aiuta retta parola retta azione la stessa cosa il tuo agire che sia retta la retta sussistenza cosa vuol dire la retta sussistenza è il lavoro noi dobbiamo vivere chiaro dobbiamo sopravvivere dobbiamo sussistere e abbiamo bisogno di mezzi di sussistenza ma deve essere retto eh non puoi sussistere giocando ad azzardo rubando mentendo introducendo energia negativa nel mondo cercati una maniera di sussistere e di mantenerti e se hai famiglia di mantenere magari i tuoi bambini in una maniera retta introducendo giustizia e non ingiustizia cercando di introdurre meno sofferenza possibile ecco che cos'è la retta sussistenza e infine la parte contemplativa del nobile o tuplice sentiero che dice sforzo retto sforzo retta consapevolezza retta concentrazione certo perché ogni giorno ci insegna il Buddha si tratta di sforzarci retto sforzo per fare che cosa? per giungere a una consapevolezza e concentrazione perché tutto dipende da questo dalla tua mente tu sei la tua mente e tutto dipende dalla maniera con cui tu la tua mente la rendi consapevole ah l'importanza della consapevolezza è essenziale non la stimeremo mai abbastanza non è la semplice conoscenza delle cose la consapevolezza è il fatto che tu sai quello che sai sai quello che non sai e non sei in balia del tuo sapere quante persone che sono prigioniere del proprio sapere persone consapevoli sono libere rispetto al proprio sapere e poi sono concentrate appunto concentrazione concludo ricordando le ultime parole che il Buddha ottantenne poco prima di morire disse a uno dei suoi discepoli più cari un suo cugino che si chiamava Ananda che si era fatto monaco anche lui e che gli era stato vicino particolarmente negli ultimi anni come una specie di segretario ecco in un sutra che si chiama il grande discorso del nirvana definitivo il Buddha dice queste dice ad Ananda queste che sono presentate dalla tradizione come le ultime parole io Ananda sono ormai debole vecchio ho una veneranda età la mia vita è stata lunga sono trascorsi ottant'anni così come un vecchio carro è tenuto insieme con l'aiuto di cinghie allo stesso modo il mio corpo è sostenuto da bende fasciature perciò Ananda siate un'isola per voi stessi prendete rifugio in voi stessi e non in altro che la vostra isola sia il Dharma che il vostro rifugio sia il Dharma e non altro così Ananda un monaco e isola per se stesso prende rifugio in se stesso e non in altro così egli fa sì che la sua isola sia il Dharma che il suo rifugio sia il Dharma e non altro voi avrete notato da queste bellissime parole questa coincidenza di isola e di Dharma il Buddha sembra quasi contraddirsi perché dice prendete rifugio in voi stessi siate un'isola per voi stessi quindi in un certo senso suggerisce la completa autonomia e poi dice prendete rifugio nel Dharma ovviamente non si contraddice e noi dobbiamo capire che quel rifugio in noi stessi non è l'ego psichico il mio carattere un po' ballerino il mio desiderio di gloria la mia io sono fatto così va bene io ho il mio carattere va bene ecco questa questa dimensione è così un po' troppo infantile ultimamente non si sta parlando di questo è chiaro che no qui si sta parlando della natura del Buddha qui si sta parlando non dell'ego ma del sé direbbe Jung sapete la grande distinzione tra l'ego che è l'ego da cui l'egoismo è il sé che è molto più grande dell'ego e dell'io che ci portiamo dentro molto più profondo e l'inconscio fa parte di questo sé molto più profondo dell'ego dell'io che è solamente una piccola parte ecco questa il rifugio il rifugio di cui parla il Buddha è questa e quindi per quello può dire prendete rifugio in voi stessi e insieme può dire prendete rifugio nel Dharma perché la profondità di voi di voi stessi in cui dovete prendere rifugio è appunto il Dharma cioè quella stessa logica cosmica da cui il mondo è tenuto insieme e che fa sì che possa esistere la legge della teoria del Karma capite che tutto è contenuto qua dentro e ancora una volta siamo rimandati a noi stessi come un laboratorio un grande laboratorio di alchimia e la vita come una una trasformazione una lavorazione dei metalli che siamo noi per far sì che dal nostro piombo possa veramente venire fuori l'oro e infine vorrei concludere ho detto concludo con le parole ma vorrei concludere davvero con un'altra cosa ancora per farvi notare come il Buddha abbia voluto essere sempre e solo un medico le ultime parole ce lo dicono il Buddha non volle sì certo ha fondato il Sangha ha fondato la comunità buddista ma ma ultimamente ha voluto che ogni persona guarisse e raccontava la parabola della zattera che è una delle parabole più belle che voi potete leggere nei Sottra Buddista quella di un uomo che si trova a camminare lungo un fiume su una poniamo la riva sinistra e vede che questa riva vede sente percepisce una serie di pericoli mentre vede che dall'altra parte nella riva destra le cose sono migliori c'è più sicurezza e allora dice devo passare vado di là perché qui ho paura forse ci sono i briganti forse le bestie feroci non lo so ma devo andare qui mi sento in pericolo devo andare di là però non ci sono ponti e neanche imbarcazioni non può passare di là il fiume profondo ci sono i serpenti i coccodrilli che ne so e quindi e quindi pensa dice farò una zattera costruisce una zattera riesce a passare di là finalmente al sicuro tira un sospiro di sollievo guarda la zattera e dice mi hai salvato la vita e allora cosa fa quest'uomo pensa di prendere la zattera e di portarla sempre con sé ponendosela sulle spalle ma se facesse così monaci si comporterebbe in maniera sapiente quest'uomo domanda il Buddha ai suoi discepoli i discepoli ovviamente rispondono di no e il Buddha dice allo stesso modo ho fatto io con voi considerate che il mio insegnamento è una zattera voi non dovete portarvi sempre con me dovete camminare liberi essere voi stessi la trovo bellissima la trovo liberante perché la trovo qualcosa che compie profondamente l'insegnamento spirituale perché il vero maestro è colui che ti libera da te e che ti libera anche da sé che ti fa camminare e con questo spero di avervi dato la voglia di approfondire perché questo è solamente come dire un'introduzione la voglia di approfondire la grande sapienza di Siddhartha Gautama Shakyamuni detto il Buddha Siddhartha Gautama